In caso di emergenza, Abruzzo e Molise ospiteranno gli sfollati di Monte di Procida. 13.000 persone, secondo alcune stime. I ragionamenti sulla distribuzione dei cittadini sono in corso. Lo conferma il capo della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, oggi a Campobasso, per l'evento conclusivo della campagna Io non rischio e per un focus in prefettura con i sindaci alla presenza del prefetto Michela Lattarulo e del governatore Francesco Roberti. Il bradisismo sta tenendo con il fiato sospeso la popolazione dei campi flegrei e ieri proprio Curcio era a Pozzuoli per definire il piano di evacuazione che fa il paio col decreto legge approvato dal governo. Il piano sui flegrei esiste, è un piano che tiene conto dello sviluppo del vulcano che è monitorato dai nostri scienziati e nell'ambito di quel piano è predisposta la distribuzione, nel caso si dovesse arrivare a stato di attenzione in cui siamo a altri stati più avanzati del vulcano ad una distribuzione dei cittadini sul territorio nazionale. Credo che siano qualche migliaia quelle che tra Molise e Abruzzo sono previsti. Sensibilizzare e informare i cittadini ha un tassello fondamentale nei piani di prevenzione dei terremoti e delle altre emergenze. Abbiamo più di 800 piazze su 600 comuni, iniziamo da Campobasso, continueremo a girare per quello che è possibile come dipartimento, ma l'importante è che nelle piazze si faccia prevenzione, si comunichi ai cittadini i rischi del proprio territorio. Piani comunali di protezione civile, quanto sono aggiornati? Allora, ne abbiamo discusso proprio poco fa, il piano di protezione civile è un piano, come dire, vivo, quindi non chiudiamoci nella logica della data di aggiornamento. Si deve capire se quel piano che hanno corrisponde alla reale possibilità di quella comunità di reagire. Allora sì, il piano è aggiornato. Impossibile dimenticare che negli ultimi 21 anni il Molise ha subito due terremoti devastanti, quello di San Giuliano di Puglia e quello del Basso Molise. In entrambi i casi la ricostruzione deve essere completata. Però dobbiamo assurdissimamente, almeno per il terremoto del 2018, iniziare la vera e propria ricostruzione perché i fondi ci sono e sono fermi. Viceversa dobbiamo vedere di completare quella del 2002 e di capire quale risorse sono ancora a disposizione.